Finalmente si chiude la vicenda relativa al complesso sportivo di Santa Barbara che ha al suo interno la piscina verde acqua. Il comune ha affidato la gestione ad un raccorpamento di imprese, la Petruziana Sport, l'Aquilana Rarinantes e l'MF SNC. L'affidamento è in realtà. In questi giorni si stanno effettuando le procedure di verifica prima di renderlo effettivo. La questione è lunga e complessa. Si trascina da anni e ha privato la città di un luogo di sport e aggregazione essenziale, suscitando proposte dei cittadini ma anche asperi scontri politici. Come si ricorderà, nel 2018 l'impianto venne chiuso per l'incidente in piscina il 10 ottobre quando ci fu una fuoriuscita di cloro che ha fatto partire anni tormentati per l'impianto sportivo, tra affidamenti da rifare e gara deserta. Il comune negli anni ha ritoccato anche il bando per renderlo più appetibile. I futuri gestori faranno un'importante opera di riqualificazione sulla struttura che potrà tornare fruibile finalmente per la collettività. Sono passati 4 anni perché a ottobre 2018 fu chiusa su segnalazione dei vigili del fuoco, fu chiusa la piscina, e poi finalmente dopo una gara andata deserta siamo riusciti ad ottenere un unico offerto, un raggruppamento di imprese unati che finalmente si è aggiudicata la gestione del compresso sportivo di Verdeacqua con i relativi lavori che devono effettuare. Questa gara si è chiusa il 10 maggio di quest'anno, abbiamo aggiudicato i lavori a questa associazione temporale di imprese e i lavori inizieranno penso per la fine del mese di agosto. In 3-4 mesi dovrebbero essere terminati e automaticamente penso che per gennaio e febbraio potrà riprendere a funzionare finalmente il compresso di Verdeacqua.